signori buongiorno e benvenuti nella terza stagione del canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale dopo due anni che vado avanti a prometterlo ma poi non lo faccio quest'anno mi sono finalmente deciso a cominciare ad affrontare gli argomenti un po più meccanici un po più tecnici diciamo la roba più succosa dell'arte di essere un game master quest'anno me lo ricorderò a lungo mi sa prima però di cominciare a sviscerare l'arte del masteraggio vera e propria mi sembra doveroso fare una premessa e per questo prenderò in prestito un aforisma del buddismo zen se incontri un buddha per la strada uccidilo è un koan tipico del buddismo zen che in parole povere intende l'insegnamento morale del diffidare da chi sostiene di essere un vero maestro o chi ritiene di professare verità assolute e avere la comprensione totale del tutto credo che sia un ottimo riassunto di quello di cui andremo a parlare oggi andiamo con ordine questo è uno di quei video che non ho scritto prima quindi ci metterò mezz'ora per arrivare al punto siete avvisati in questa stagione come ho detto voglio concentrarmi sugli aspetti più tecnici e anche più pratici dell'arte del masteraggio per farlo dovremmo assolutamente andare a includere anche molti aspetti della teoria della narrazione cercando di semplificarli il più possibile il fatto però è che si tratta tutta di roba tecnica anche relativamente complessa per quanto io possa semplificarla mentre stavo organizzando gli appunti per farmi una scaletta più o meno di quelli che dovranno essere poi gli argomenti e quindi i relativi video per questa stagione mi sono reso conto che sia gli argomenti per sé ma anche solo la mera quantità di informazioni di cui dovremmo andare a parlare potrebbe da una parte essere scoraggiante per il vero neofita che si approccia all'arte del masteraggio e potrebbe anche dare l'impressione assolutamente erronea che io sia un qualche tipo di grande master master onnisciente che sia qualcuno che sappia di giochi di ruolo a dei livelli inverosimili ora io non sono il massimo esperto di masteraggio hashtag massimo esperto di masteraggio sono semplicemente un master che avendo masterato per molto tempo ed essendosi andato a approfondire molti argomenti ha un'esperienza maggiore di quella che immagino abbiano le persone che guardano i miei video io ho cominciato a masterare quando facevo le medie grossomodo quindi tra una cosa e l'altra saranno almeno vent'anni non forse di più ma diciamo che sono almeno vent'anni che faccio il master ovviamente ho cominciato con io quindicenne insieme ai miei amici quindicenni a fare le quest dei bambini quindicenni con molto semplici robe molto diretti cose che probabilmente adesso se dovessi rigiocarle le troverei imbarazzante nel corso della mia carriera come master mi sono trovato a masterare il gruppo dei miei pochi amici intimi gruppi di esimi sconosciuti mi è capitato di masterare in privato a casa mia tranquillo mi è capitato di masterare in pubblico in associazioni ludiche in ludoteche mi è capitato anche un paio di volte di masterare in fiere con tavolo di completi sconosciuti e gruppo di completi sconosciuti tutto intorno a guardare quello che succedeva mi è capitato di masterare giochi molto meccanici mi è capitato di masterare giochi narrativi ho fatto quest lunghe ho fatto quest corte ho fatto quest che si sono risolte in una sola sessione di tre ore e ho fatto campagne che sono durate 4-5 anni mi è successo di stare nei periodi in cui masteravo sì e no una volta al mese e mi è successo un lungo periodo per quasi 10 anni nella mia vita io ho masterato ogni settimana tre volte alla settimana tutto questo mi ha permesso di fare molta esperienza nel campo dei giochi di ruolo il fatto però è che per quanto io possa aver masterato molti giochi con molta gente in molte situazioni non ho sicuramente fatto tutte le esperienze possibili che un master possa fare nessun master può fare tutte le esperienze possibili tutto quello che io dico sul mio canale sono cose che io ho imparato dalle esperienze che io ho fatto per la maggior parte delle cose si può considerare che siano informazioni universali però non partite al presupposto che se io sul mio canale dico qualcosa quella cosa è per qualche motivo vera anche per il vostro gruppo ogni gruppo fa una storia a sé quello che ha funzionato per me nei miei anni di masteraggio non necessariamente funziona per voi in questo momento sul gruppo che state masterando adesso ovviamente questo discorso vale per me e per questo canale come vale per qualunque altra persona neanche voi potreste fare tutte le esperienze possibili potreste fare molte esperienze ogni volta che vedete un video su questo canale che parla di qualcosa guardatelo cercate di trarre la maggior parte delle informazioni possibili ma prima di dare per scontato che quello che avete visto è vero riflettete e valutate bene e testatelo se io vi consiglio di fare qualcosa testate sul vostro gruppo se questa cosa funziona per voi e se la cosa non funziona non necessariamente siete voi che state sbagliando potrebbe semplicemente essere che alle persone a cui masterate o le vostre abilità e anche il vostro gusto personale come master vi facciano preferire o vi facciano rendere più performante qualcos'altro, magari qualcosa che neanch'io ho mai provato non so neanche che esiste perché non mi sono mai trovato nella situazione in cui voi siete adesso inoltre, sempre per tornare all'aforismo iniziale del se incontri un Buddha per la strada uccidilo non pensiate che basti guardare i video su YouTube di uno che parla di masteraggio per diventare dei grandi master o anche diventare dei master mediocri quello che io faccio qui sono le basi e la teoria ma voi non migliorerete come master guardando i miei video voi migliorerete come master provando sul campo quello che io vi dico nei miei video più giocate, più masterate, migliori diventate io parlo dei miei video ma questo discorso si può fare per chiunque parli di qualunque cosa su YouTube in generale ci ho tenuto a fare questa premessa iniziale un po' perché non vorrei illudere nessuno magari c'è effettivamente qualcuno di estremamente giovane che guardando i video, provandoli e vedendo che con i suoi amichetti queste cose non funzionano ci rimane male e si sente imbrogliato è normale molto di quello di cui parlo richiede che sia il master che i giocatori abbiano comunque un livello diciamo almeno medio un master totalmente principiante potrebbe rimanere spiazzato e un altro po' è per mettere le mani avanti rimanere con i pieti per terra o qualsiasi altra metafora preferite non voglio fare illusioni a me stesso sul fatto che io possa essere per qualche motivo migliore di chissà quanti master che ci sono sia quelli che seguono il canale sia quelli che non sanno mai neanche che esiste questo canale ogni master fa storia a sé ogni gruppo fa storia a sé come ho detto diciamo che questo video finisce qui ho già blatterato fin troppo come sempre se siete nuovi del canale fateci l'abitudine io sono un uomo innamorato del suono e la sua stessa voce come premessa iniziale mi sembra più che sufficiente ovviamente voglio sapere da voi se per quelli che seguono il canale già magari dall'inizio cosa effettivamente di quello che ho detto vi è servito cosa non vi è servito cosa avete trovato giusto e cosa invece alla pratica si è rivelato essere totalmente erroneo comunque se avete domande, dubbi, perplessità come sempre lasciate un commento nell'area di discussione qui sotto se non volete perdervi i video che usciranno in questa nuova stagione iscrivetevi e soprattutto schiacciate il pulsante della campanella io sono il Master Kai noi ci vediamo nei prossimi video ciao